La torre di Sansebaldo Il portale è il più antico, ma la lunetta è del 1506, opera di Adam Craft, ispirato dalla leggenda Aurea. Merita anche il gran San Cristoforo, un uomo anziano ma ancora possente. Indossa un'ampia tunica, si appoggia ad un bastone robusto e nodoso. Sulle spalle al bambino Gesù lo aiuterà ad attraversare il fiume. Ecco ancora le due torri ed il fianco meridionale, nel quale si aprono due portali gotici. In questo l'eschemità occidentale, quattro colonne, sostengono gli archi a sesto acuto. I capitelli che si interpongono ai due lati raffigurano motivi vegetali o mostri. Si appoggiano agli archivolti i due angeli che portano gli strumenti della passione ed Abramo, che accoglie in grembo i giusti. Nel timpano raffigurato il giudizio finale, quasi nell'identico modo in cui l'abbiamo visto a Bamberg. Da notare che il cortio dei Deannati è guidato da un ebreo, riconoscibile dal cappello a punta. Nelle pareti, le stazioni della via Crucis. Il portale appena visto risale al 1310-1315. Sotto quest'androne c'è il portale dei Magi, il più giovane, ma mi manca la foto. Le pentine ci mostra una chiesa crocielettina, che si articola in tre navate di cinque campate, tranzetto, doppio coro, di minori dimensioni ad ovest. Era il coro dell'imperatore, maestoso ad est, si articola in due campate ed è provvisto del diambulatorio. Siamo entrati, lo sguardo va alla volta crociera costolonata della navate centrale. Davanti a noi si apre il coro orientale. Sono numerosi gli altari, questo è un piccolo altare in arena in aria, sormondato da una palla d'altare quattrocentesca con la crocifissione. Le navate sono separate da pilastri polistili. Le laterali sono state allargate alla fine del Trecento. Ed hanno assunto questo aspetto, l'altato si compone di cleristorio, triforio, d'aspetto romanico e grandi arcate gotiche. La navata centrale, che all'interno ricorda lo stile tardo-romanico, con cui si è dato la via alla costruzione. I lavori erano iniziati tra il 1230 e il 1240, iniziando dal coro orientale. Nel 1273 era avvenuta la consacrazione di questa basilica, a doppio coro e a triplice navata. All'epoca era stata dedicata a San Pietro. Ci vorrà più di un secolo. Bisognerà aspettare la seconda metà del XIV secolo, affinché la chiesa sia dedicata a San Sebaldo. San Sebaldo era stato un'eremita del luogo, che già in vita aveva compiuto miracoli. Mi avvio per la navata nord, per raggiungere il coro est. Ai pilastri si addossano grandi statue. Questo è l'uomo dei dolori, una volta collocato all'esterno, in modo inconsueto e disposta per traverso. Questa è una donna che tiene in braccio il bambino del 1438. Davanti a noi ora si spalanca il coro, il coro gotico ricostruito, abbattendo il precedente romanico nella seconda metà del Trecento. La grande invenzione del gotico, lo spazio si svuota. Esistono solo agili pilastri e grandi finestroni da cui rompe la luce. Così mi pare giusto iniziare proprio dalle vetrate. Questa vetrata della fine del Trecento l'ha donata alla famiglia Behaim. Gli stemmi della famiglia sono in basso. Sempre nel diambulatore a nord, questa vetrata che ugualmente mi è piaciuta, la vetrata della famiglia Tuker risale a 1379 e descrive scene della Passione di Cristo. Queste invece sono altre vetrate. E' proprio al centro che ci sono le vetrate donate dalle autorità. A sinistra di quella centrale è la vetrata del Vescovo. All'epoca Norimberga dipendeva dalla diocesi di Bamberga. Questa è chiamata vetrata di Bamberga ed è molto simile a quella che abbiamo visto lì, al centro preceduta dall'altare dedicato a San Pietro, la vetrata dell'imperatore, costruita sul disegno di Albrecht Dürer. Proprio al centro della vetrata ci sono l'imperatore Massimiliano e la moglie Maria di Borgogna. Ma proprio al centro è sospeso pure questo gruppo scultorio di Weizstos, Cristo crocifisso tra Maria e Giovanni. Parto dal basso, da questo basso rilievo di Weizstos. In tre riquadri raffigura l'ultima cena, Cristo prega nell'orto degli Ulivi. Il terzo riquadro è dedicato alla cattura ed allargando il campo vediamo dov'è. Proprio sotto la vetrata del Margravio, a destra della vetrata imperiale. Tutte e tre le vetrate centrali sono cinquecentesche. Anche questa è sul disegno di Dürer. Ancora vetrate, queste sono del lato sud. Le vetrate e le statue erano donazioni che facevano le ricche famiglie di Nuremberg, che in quegli anni aveva una florida economia legata ai commerci. Proprio al centro del coro orientale c'è la tomba di San Sebaldo. La cassa interna è del primo trecento, in rovere rivestito da argento. Poi agli inizi del cinquecento si è chiesto allo scultore Peter Wiescher, il vecchio, di rivestirla di una struttura d'ottone. Progetta un tempio a tre arcate, che lascia vista la struttura di legno interna. Sui peritti dispone grandi statue di apostoli. Piccole statue con episodi della vita di San Sebaldo sono dappertutto. Appoggia la pesante struttura su file di chiocciole. Lo scultore mette circa dieci anni a completare l'opera. Viene dall'esperienza tardogotica. Ma nel sepolcro di San Sebaldo, segue i canoni del rinascimento italiano, soprattutto il ritorno alla classicità. Come appare ben chiaro da queste due figure di donne, ripasso dal deambulatorio per andare via. Proprio vicino all'altare di San Pietro c'è il ciborio. In questa struttura sono conservate le ostie consacrate. Riprendo il cammino ed esco a livello della navata. E da qui mi compare il coro occidentale, il coro dell'imperatore. Ed è qui che si affacciava quando partecipava alle funzioni. Ed ora il minuscolo coro occidentale ci sono arrivata. Una piccola abside pentagonale. Accoglie un fonte pattesimale in bronzo del 1430. Lascio l'interno per terminare la visita dell'esterno. Sono di fronte al fianco nord. Quando nel 300 vennero allargate le navate laterali. Anche in questo fianco furono costruite i due portali. Questo è quello dedicato a Maria. La narrazione si dispone in due ordini. In basso l'addormizio, con Gesù che accoglie l'animula. E di seguito il trasporto, con gli ebrei che intralciano. In alto l'incoronazione. L'altro portale va sotto il nome di portale degli sposi. Viene raccontata la parabola delle vergini sabbie e delle vergini stolte. Queste sono quelle stolte che hanno già finito l'olio della lampada. E per ultima un'occhiata alla grande abside. Rietraversiamo il ponte. Altre visite ci aspettano.